Farine ricavate da insetti, bistecche prodotto di sintesi, latte sintetico, insomma un addio al vecchio mangiare, già in essere col benessere della comunità europea e centrali cattedrali della nuova alimentazione in costruzione. Allora col diretti Sardegna Attiva mettono in campo le loro forze e le loro specialità per combattere la disinformazione che darebbe come lontane queste eventualità. Già da tantissimi mesi ci sono delle società importanti, delle realtà importanti in tutto il mondo, in particolare in Germania, nel nord Europa, in Danimarca e anche negli Stati Uniti d'America che stanno lavorando appunto a progetti di questo tipo, quindi alla produzione di cibo sintetico. Nello specifico in questo momento in Danimarca c'è una realtà che sta proprio costruendo uno stabilimento importante su 70.000 metri quadri atto fondamentalmente a produrre latte e formaggi che sono in grado per le dimensioni che ha questo bioreattore di soddisfare la domanda di tutta quanta all'Europa. Un presente reale e concreto che minaccia il nostro made in Italy, il nostro mondo delle campagne ed è una minaccia a cui noi stiamo ponendo resistenza con forza, possiamo dire che è la madre di tutte le battaglie per noi di Coldiretti e proprio a fine novembre abbiamo anche avviato una raccolta firme che ad oggi ci vede in tutta Italia con più di 400.000 firme che appunto servono fondamentalmente per un importante obiettivo che è quello di avere una legge. Ma il processo è già iniziato e allora abbiamo una serie di incontri per mettere allevatori, coltivatori e produttori di cibo al corrente della immediatezza del problema e correre ai ripari. Mi sono preoccupato di fare in modo di intervistare insegnanti e genitori affinché seguissero un corso per essere informati di quello a cui andremo incontro, da qui a qualche anno. Oggi il primo di una lunga serie di incontri si è tenuto a ghilarza nella sede di Coldiretti. Oggi il primo di un'attività della sede di cortiretti, da qui a cui andremo insieme a chi l'intervistare